Salve a tutti bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego dove trovare questa ascia di Rosus ragazzi questa è la posizione esatta quindi dirigetevi qua si trova esattamente in un piccolo canyon come volete chiamarlo dovete dirigetevi qua alle catacombe e assicuratevi di avere con voi una chiave della spada di pietra e perchè dobbiamo sbloccare quella porta dove c'è quella statua del folletto del demone non ci faccio mai caso ai nomi quindi scendete qua sotto, girate a sinistra, usate la vostra chiave della spada di pietra attenzione a questi che veramente rompono i coglioni adesso dall'ultimo aggiornamento quando li colpisci non muoiono adesso non ho capito quando li butti a terra ecco, vabbè, comunque ascia di Rosus, eccola qua questi scheletri rompiminchia stanno qua, ok dall'ultimo aggiornamento quando colpivi questi scheletri e cadevano a terra potevo colpirli di nuovo e così sparivano ma adesso invece non ho capito che problemi ci hanno ok va bene ragazzi il video finisce qui si lo so è un video brevissimo ma era un video tanto per farvi vedere dove trovare questa ascia di Rosus ve la consiglio potenziatela fino a livello 10 ed è una peste applicate anche qualche cenere di guerra sopra e quindi ragazzi spero tanto che questo video vi è stato utilissimo e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 Grazie.